L'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Nocera Inferiore si mostra alla città. Domani saranno presenti al chiostro del convento di Sant'Antonio per spiegare le tante offerte formative disponibili. Appuntamento alle ore 19. Questo istituto permette ai ragazzi di conseguire un titolo di studio che è quello di perito. Ovviamente perito nei diversi indirizzi che il nostro istituto offre, che sono tanti e svariati, ed è un titolo di studio che si può usare sicuramente per inserimento nel mondo del lavoro subito, ma non solo perché è possibile procedere gli studi con l'università, ma anche con l'Istituto Tecnico Superiore, con gli ITS. Quindi noi consigliamo questa scuola perché offre ai ragazzi tante opportunità. E come diciamo sempre ai nostri ragazzi, l'importante è avere tante occasioni, tante opportunità, perché nella vita bisogna avere molte più scelte, più chance. Ed è per questo motivo che noi, oltre ad aprire la nostra scuola, i nostri laboratori, sia nel biennio che nel triennio, abbiamo quest'anno offerto ai nostri ragazzi la possibilità di partecipare agli Open Labs, perché così i ragazzi si rendono conto delle attività laboratoriali che qui si possono fare in concreto. E poi soprattutto c'è un invito che ci teniamo, che è quello di partecipare all'evento del primo febbraio. È un'occasione perché come scuola noi viviamo un momento di convivialità, lo stare insieme per noi è fondamentale, e quindi invitiamo tutti a partecipare all'evento, al chiostro, noi del Marconi, in cui possiamo presentarci con tutte le anime di questa scuola, che spaziano oltre alle materie tecnologiche e anche la parte umanistica, perché i nostri allievi devono prepararsi per un futuro e noi ci teniamo che diventino dei cittadini consapevoli e responsabili.